Ho dei materiali Sparano, io andavo una buona mina Ricarico Il buffone mi sta sparando Ricarico gli scudi Guarda, mi stanno sparando Sono a testa Ho discurso lo scudo a quel nemico Rispur Sparano Ah, che di vero dirci a sua mente Ho scurso lo scudo a quel nemico Bomba grappolo Un buffone mi sta sparando Bomba grappolo in arrivo, gente Contatto stabilito Ricarico gli scudi Nimico qui Nimico individuato Un amico distrutto Questa si chiama in licenza. Una squadra ha tomato la tempesta. Ottimo lavoro.